Ragazzi è stata liccata una nuova mappa evento Come potete vedere da qua sotto la mappa sarà una rivisitazione per l'evento NFL di football di Cannon Climb Ed è semplicemente la mappa classica con qualche cambio di ostacolo I palloni saranno per l'appunto dei palloni da football quindi ovalizzati La cosa bella però è che hanno diciamo rischinnato tutta la mappa e quindi ci sono dei colori completamente diversi Il fondo è verde come per l'appunto i prati, i cannoni, i girandoli chiamiamoli i girandoli è tutto cambiato E poi sul finale hanno aggiunto per l'appunto come se fosse un touchdown Quando uscirà?